E' uscita la banded E io non ho par... Non so che cosa di... Non so che cosa di... Andiamo con ordine E' sparito Andiamo con ordine Allora Dove siete? Dove siete? Cioè c'è una roba... Secondo me è imbarazzante È veramente imbarazzante Allora Andiamo con ordine Arcanemis Protoss Vabbè Bannata Eva bandata Seymour Che che... Perché Seymour Cioè ma che... Allora La sta cosa del Banniamo le carte Perché vengono utilizzate In mazzi Più forti Molto più forti Quando dovreste bandare altro Invece di una cavolo di carta Che distrugge un archetipo Mi fa veramente infuriare Mi sta veramente qua Qua Sì ce le ho alte Qua me sta Perché non è possibile Ma che cacchio c'entra? Appena che si utilizzava E ok Ma c'è... Vabbè Empire Holder Bannato Vabbè Tutti felici L'unica carta che magari Contrastava mazzi È bannato Vabbè Limitato Destrudo Fairy Tail Snow Sorsera Astrograph Tiger Lirilus Residal Starlight Monstergate E Desires Desires che non ha giocato Quasi nessuno L'unica L'unica o magari peschino Budget che la gente Poteva prende Se l'hanno limitato A uno L'unico Che se poteva prendere La gente Magari Meno male Ho aspettato a fare Il video Dello staple budget Cioè l'unica carta Che uno si poteva mettere In tre per In due per Per Riuscire a causare Determinate cose E non ho per Desires E non ho per Vabbè Semilimitato Un eroe sopravvive Fusione destino Che Perché ha due Non ha senso Almeno mettilo a uno Se vuoi impattare un pochino Servant Nadir Circolo Salamagna Scapegoat Vabbè Ok per Circolo Salamagna E per Scapegoat Il resto per me Non ha Non ha molto senso Perché il fatto di mettere Due per Mettere a due per Determinate carte È come Cioè bisogna Tipo Il collet Tipo collet Collet nel due per Sarebbe andato bene Ma no mettiamoci carte Che se mette a due Non cambia un cazzo Va bene Poi Unlimited Danger Nessie Metal Flare Vabbè Dragos Club Dalle cocchi rossi Joker Perché tanto ormai L'hanno messo a due Lo metterò a tre Così come Te trasporto D'emergenza Felice per Rijacky E Skill drain In tre per Che ti costa un occhio Dalla testa Perché un Skill drain Sta a minimo Penso 5-10 euro Come minimo Carta molto forte Ok Che aiuterà sicuramente A molti Molti giocatori Però Mi dà il cazzo Tutta la band Un pochetto Sono contento Per Per Cioè io sono contento Per scape Che otterrà i Scechi E skill drain Il resto Mi fa altamente Schifo Ma Tanto eh Soprattutto per il Seamorg E il Seamorg Poverino Poi magari Non ci capisco niente Io perché Magari Non giocando Meta Non capisco L'impatto Del Seamorg Ma che cazzo Può avere Il Seamorg Che che è C'è stanno 40 C'è mezzo Tribrigate Magari Dentro build up E tu Levi il Seamorg Poi Desires Desires Che cazzo Perché Desires in 1x Ma che senso C'ha Ma che vuol dire Che vuol dire Per Secondo me Per limitare Il gran magio Perché tanto È T0 No Poi fusione Destino In 2x Cioè Non ho Veramente Non ho capito Perché 2x Fusione Del destino Vabbè Io Non c'ho parole Fatemi sapere voi Cosa ne pensate E noi come sempre Ci vediamo in un prossimo video Allora Io mi scuso Magari per Il fatto di Simor Magari sono io Che non concepisco Però mi sembra strano Però è sempre così C'è un mazzo forte Che gioca Una carta Di un altro archetipo Steccano la carta Di quell'archetipo Così quell'archetipo Non si gioca più Ma tutto il resto Nel mazzo Gioca come se non ci fosse Vabbè Ok Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti